Cari amiche e cari amici ben ritrovati a Storie di Vino e Viticoltori, il podcast dove il vino ve lo racconta chi lo produce. Prima di iniziare la puntata come sempre vi chiedo la cortesia di mettere un like al video, di iscrivervi al canale, di attivare la campanella così da essere avvertiti in tempo reale quando uscirà una nuova pubblicazione e come amo ripetere se volete lasciare un commento è molto ben accetto. Detto questo è il momento di presentare gli ospiti. Abbiamo oggi direttamente dalla Valpolicella Emanuela e suo fratello Giorgio Marcolini, la nuova generazione proprietaria della cantina Il Monte Caro. Buongiorno Emanuela. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno Giorgio. Ciao Francesco, buongiorno a tutti. Bene, io direi che i saluti li abbiamo fatti, le presentazioni pure, non ci manca che lanciare la sigla e iniziare la puntata. Sigla. Allora, eccoci qui. Io direi di partire con Emanuela, se non fosse altro per una forma di cavalleria. Emanuela, senti, ho detto voi venite dalla Valpolicella, precisamente dalla Valmezzane. Ti andrebbe di farci un po' una orografia, una geografia della Valpolicella e poi una volta fatta collocare la Valmezzane al suo interno? Allora, innanzitutto ci troviamo a Verona. Stiamo parlando delle colline a nord, proprio del centro di Verona. Queste colline vanno da ovest a est, quindi proprio è un sipario che ritroviamo su tutta la provincia veronese, su quasi tutta la provincia veronese. Le vallate maggiori sono sette, in realtà poi ci sono anche delle vallate più piccole che si riuniscono, insomma in tutto arriviamo circa a tredici appunto vallate che vanno da nord a sud come direzione. La zona classica, che quindi è quella proprio più storica, dove la Valpolicella è nata, è la parte a ovest, quindi quella verso il lago di Garda. Poi c'è la vallata della Valpantena, che è già una menzione. E poi ci sono tutte le vallate dell'est veronese che sono state aggiunte nella doc Valpolicella negli anni 90, fino agli anni 90, e proprio in questa zona di Verona ci siamo anche noi. C'è la vallata di Mezzane, che è una vallata molto particolare, diciamo, ogni vallata ha delle sue specificità, sicuramente. Io adesso vi racconto un po' quello che è la nostra di vallata. È molto stretta e chiusa, quindi significa che una volta arrivati a Mezzane o si sale verso la montagna della Lessinia, che è la montagna veronese, altrimenti il percorso termina lì. E questo fa sì anche che ci sia veramente poco passaggio. Questo per noi è una cosa molto positiva, perché in termini di territorio e paesaggio ritroviamo, non ritroviamo industria, troviamo pochissima edilizia, c'è poco, diciamo, sfruttamento turistico e quindi il paesaggio e il territorio ne beneficiano. È una vallata molto verde, ci sono oltre agli innumeremoli vigneti, ci sono anche molti boschi, moltissimi olivi, Mezzane è molto conosciuto anche per l'olivocultura e ci sono molte fonti. È conosciuto anche come paese delle fonti, ci sono infatti due progni che sono ancora molto attivi, quindi è veramente, sembra un po' di fare un tuffo nella campagna di una volta, quando ci si approccia a questa vallata. Quello che posso dirti ancora è che in tutta la Valpolicella troviamo sicuramente delle similitudini, soprattutto a livello di terreno, c'è questo calcare, questa marna calcarea che è presente più o meno in quasi tutte le vallate da ovest a est, però sicuramente poi ci sono delle piccole differenze da zona a zona. Correggivi se sbaglio, io credo che la zona in generale del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, quelli che noi oggi chiamiamo Veneto e Friuli Venezia Giulia, siano state credo tra le ultime a formarsi dell'Italia, perché lì era mare. Esatto, era mare. Nello specifico la vallata di Mezzane era una baia, quindi con acque molto calme. Questo lo sappiamo perché l'anno scorso abbiamo intrapreso uno studio con un geologo che è venuto a fare proprio uno studio con dei carotaggi per andare a fare uno studio proprio sempre più nello specifico della nostra proprietà e ci raccontava che la forte presenza di selci che abbiamo nella nostra collina è dovuta proprio a queste acque molto calme che si trovano appunto in queste baie molto tranquille dove i minerali si possono lentamente sedimentare e diventare poi nel corso dei secoli e secoli delle selci. Scusa però, una domanda mi sorge spontanea. Perché la cantina si chiama il Monte Caro? La cantina si chiama così perché ci troviamo proprio sul Monte Caro. La nostra cantina, i nostri vigneti si trovano tutti quanti su questo monte, quindi la nostra è un'azienda a corpo unico e ci piace molto questa cosa, ci teniamo a dirla perché attraverso i nostri vini cerchiamo di raccontare tutte le sfumature del monte sul quale abitiamo. Sicuramente la maggioranza del terreno che troviamo sotto i nostri piedi è il calcare, abbiamo questa marna bianca veramente molto presente, in alcuni vigneti proprio non c'è neanche del terriccio al di sopra della roccia e quindi ci sono tutti questi affioramenti bianchi che escono tra una vigna e l'altra, però abbiamo anche delle piccole differenze. Nella parte più bassa del vigneto dove una volta c'era una vecchia cava della roccia rossomonita che è quella molto conosciuta perché è il marmo rosso di Verona, in questa zona qui appunto il calcare si unisce a questa roccia molto dura e molto ricca di ferro. Invece se saliamo a nord, scusami non a nord però nella parte più alta della collina siamo a circa 300 metri di altitudine, qui invece abbiamo questo calcare che si unisce a delle rocce che sono di natura vulcanica, non siamo su terreno vulcanico, non siamo su un terreno, su un vecchio vulcano spento ma ci sono delle caminelle diciamo qua e là e noi ne abbiamo una molto piccolina che ci dà insomma questi rimandi. Quel vulcano in realtà principale è quello che si ritrova dalla zona di Suave a est. Io mi domandavo perché il monte caro, perché dicevo caro perché è tengelo, perché è buono oppure caro perché comprare un ettaro di terra lì costa un sacco di soldi, questo era il dubbio che mi era attalagliato. Ormai direi che la seconda può essere un'opzione molto valida, per noi rimane sempre la prima. Giorgio, adesso la palla passa a te. Come siete arrivati a produrre vino a il monte caro? eravate figli di viticoltori, nipoti, bisnipoti di viticoltori, siete una dinastia di viticoltori? No, non esattamente. Noi siamo figli di due persone che comunque hanno derivazione dalle campagne ma non durante la vita diciamo hanno comunque trovato modo di lavorare, vivere nella città, quindi diciamo se ne sono allontanati negli anni successivi dalle campagne, fin quando il papà in particolare, persona assolutamente estrosa, geniale, un giorno diciamo durante la sua ultima attività precedente, quella della campagna che era la fotografia, lui era fotografo in ultimo, ha trovato appunto questo terreno che al tempo era assolutamente incolto, sassi e sterpi, era un terreno in vendita diversi anni che nessuno, dove nessuno diciamo poneva interesse. Papà in realtà dentro la sua testa aveva già immaginato un po' tutto lo sviluppo e soprattutto aveva capito la bellezza del posto, è una vista molto affiato, è un clima meraviglioso. Noi siamo partiti diciamo in sordina nel senso che io e anche mia sorella, ci siamo dati agli studi universitari, io in ambito ingegneristico, sono ingegnere meccanico, io avevo la passione, mi sono specializzato sulle energie rinnovabili, quindi diciamo poi questo è un po' il filo che ha legato la vecchia vita mia alla nuova, diciamo così, la passione per la natura se vogliamo, per la pulizia dell'ambiente. Mia sorella aveva seguito un po' le orme del papà nel senso che si è appassionata anche lei stessa alla fotografia, aveva iniziato, no ha iniziato, ha studiato, ha concluso gli studi, iniziando anche un progetto diciamo di fotografa freelance, ha girato praticamente tutto il mondo, quindi in realtà noi, la mamma adesso non l'ho menzionata, ma la mamma diciamo che è stata un po' la forza del gruppo nel corso degli anni, nel senso che è quella che ha consentito un po' a tutte queste tre testoline che ho nominato, di poter procedere nella vita diciamo con dei cambiamenti anche importanti e mantenendo sempre, come si suol dire, l'ordine, l'armonia e l'unione familiare. Quindi diciamo che fondamentalmente noi più che discendere da agricoltori siamo delle persone abituate a studiare, siamo curiosissimi, non ci accontentiamo mai probabilmente, infatti un po' in quest'ottica, in questa logica, ma in paura si dice no. Quando il papà e la mamma sono riusciti dopo diversi anni a creare appunto un'azienda agricola biologica mista all'inizio, no, c'erano olivi, ciliegie, albicoche, susine, vigne, tutto questo possibile grazie anche al fatto che il papà si è impegnato tantissimo per trovare l'acqua subito, la prima cosa è stata fatta quando è arrivato sul monte. Ecco, noi ci siamo trovati di fronte a questo spettacolo e successivamente un pochettino io ho capito per quello che riguarda me stesso che in realtà la mia strada non era quella del tecnico commerciale, non era quella dell'andare a chiacchierare diciamo per conto terzi, ma era quella veramente di poter vivere in mezzo alla natura, quindi ecco c'è stato un po' più un avvicinamento che adesso ti spiego più nel dettaglio perché è stato anche un po' da ridere come è nato tutto il discorso vino nello specifico e sostanzialmente un giorno nel 2007 un mio amico che studiava enologia trova gli attrezzi artigianali del papà per farsi le sue 100 bottiglie di vino sai così per divertimento proprio, neanche lo sapevamo noi che si divertiva così al fine settimana e mi dice dai che sentiamo se ce le lasci usare che proviamo a fare qualcosa anche noi così io vi faccio un po' di esperienza, mi fai e te ti impari. Io al tempo il vino quasi neanche lo bevevo nel senso che erano più le volte che stavo male che altro e niente insomma nel 2007 partiamo per gioco, per scherzo con questo mio amico al quale se ne ha giunto un secondo successivamente e questo gioco però è stato fin da subito portato avanti in una maniera molto seria nel senso che io ho deciso di fare le cose come se domani avessi dovuto aprire una cantina senza saperlo. Sai che c'è una teoria sui giochi che sostiene che i giochi siano tra le cose più serie e più difficili da affrontare quindi capisco perfettamente il concetto di serietà che vuoi sottolineare. Certo diciamo fa un po' ridere in senso buonario ovviamente cioè uno si spacca la schiena per diventare ingegnere e poi dopo si mette a fare il contadino perché se no ho capito male tu sei soprattutto anche se lavorate in sinergia ma tu sei soprattutto le braccia agricole che stanno in campo quindi. Sì oggi oggi sì oggi diciamo che mi sono messo un po' a spalle ovviamente anche con tutta la forza e l'energia di Emanuele e della mamma ovviamente mi sono messo un po' in spalle insomma così proprio il lavoro operativo nella campagna però ecco c'è da dire una cosa che il gioco è stato condotto in maniera seria anche perché effettivamente sai quando arrivi a un certo punto a dire ma io mi sveglio la mattina perché per fare cosa cosa ho costruito vecchia vita tutto bello soddisfacente ma poi operativamente non sentivo di non avere veramente portato a casa quello che volevo e facendo questo questo gioco chiamiamolo così un po' alla volta insomma caspita comincio a vedere che le cose vengono bene comincia anche a piacermi proprio il vino oltre che farlo ma anche a degustarlo e un po' alla volta dico mamma papà dico qua il caso di richiamare la sorella dall'estero perché sarebbe anche il caso di poter lanciarci su un progetto nuovo dico così espongo tutto tutto quello che era la mia idea e insomma 321 la famiglia ci ha creduto tantissimo quindi diciamo che di mio personalmente non c'è proprio un tubo diciamo che è stata proprio una sinergia fortissima insomma tempo zero arriva l'Emanuela dall'Inghilterra che stava appunto esercitando la sua professione di fotografa in quel momento a Newcastle dove stava anche effettuando degli studi specifici e niente me la rido un poco perché è stato bellissimo per lei tornare perché diceva caspita finalmente o come succede da noi no da fuoco perché dice non ce la facevo più fa del tempo l'inglese mi fai del cibo inglese grazie signore grazie che torno a questo punto interpelliamo anche Emanuela allora l'abbiamo capito in realtà la vostra è una sinergia non c'è uno che fa esclusivamente una cosa è uno che ne fa esclusivamente l'altra però da quello che mi sembra aver capito al di là del fatto che tu ti occupi un po di più anche delle public relations della cantina sei anche quella che come dire è la prima inter pares all'interno della cantina quando c'è da mettere mano alle fermentazioni le macerazioni e quant'altro ma adesso arriveremo a una domanda successiva che ho in mente però prima te ne volevo fare un'altra se ti dovessi chiedere qual è la vostra firma che apponete sui vostri vini non tanto da un punto di vista organolettico ma da un punto di vista produttivo tu cosa mi risponderesti posso dirti quello che muove la filosofia un po che muove tutte le nostre scelte per noi sono molto importanti diciamo tre concetti che sono la genuinità la semplicità e diciamo sono due concetti semplicità freschezza e genuinità questo perché quando ci siamo ritrovati all'inizio di questo progetto e mio fratello ci siamo detti ok bene abbiamo capito che vogliamo fare del vino cosa facciamo e quello che ci siamo detti da subito è stato perché lo facciamo perché ci piace stare qui è il posto che ci ha chiamato perché proprio andando via 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 tutti siamo ritornati e quindi l'amore per il posto è stata una cosa molto importante per noi e questo si traduce in nei miei bicchieri voglio che le persone possono sentire la personalità del luogo in cui noi viviamo e lavoriamo e secondo non possiamo fare altro che trattarlo bene questo monte e quindi lavoriamo senza prodotti chimici in campagna nemmeno in cantina siamo partiti con un biologico negli ultimi anni invece ci stiamo molto avvicinando a quello che è una filosofia più biodinamica anche se comunque i passi sono lenti perché lo studio da fare è veramente molto quindi pulizia, rispetto per l'ambiente e semplicità perché noi siamo comunque una famiglia veramente molto semplice e il nostro approccio al posto in cui abitiamo è molto diretto e quotidiano adesso veniamo alla domanda che avevo anticipato ad Emanuela la domanda è questa ma il vino si fa in cantina o in vigna? Fermi tutti prima di rispondermi vi dico subito non vi azzardate a prendere la scorciatoia ma no ma è dal bilanciamento tra il lavoro in vigna e quello in cantina che il vino prende un'anima sicuramente il vino si può fare sia in vigna che in cantina dipende molto secondo me dalla filosofia e dallo stile del produttore perché quello che si assaggia è sicuramente la traduzione di un'interpretazione quindi la mano del produttore è sempre presente dove questa si muove però secondo me veramente cambia molto in base al tipo di approccio che si vuole avere per noi posso dirti sicuramente il vino si fa in vigna quando le uve arrivano in cantina c'è ovviamente molta attenzione c'è molto lavoro anche in cantina però quello che cerchiamo di fare è quello di portare avanti il lavoro in maniera molto tra virgolette neutra in realtà tutto quello che si assaggia nel bicchiere tutte le differenze fra un vino e l'altro sono delle conseguenze da scelte che facciamo in vigneto noi abbiamo diciamo 5 vini oggi dopo ne assaggeremo 3 ogni vino ha il suo vigneto dedicato e in quel vigneto vengono effettuate durante l'anno delle operazioni diverse rispetto agli altri vigneti proprio perché il risultato finale sarà diverso quindi sicuramente per noi è la vigna sentiamo cosa dice il mio fratello no sicuramente da amanti della natura quindi da rispettosi della natura posso confermare che è tutto corretto Emanuela però vorrei aggiungere una cosa perché non è da snobbare diciamo in effetti la cantina perché comunque ci vuole una buona dose di conoscenza anche in cantina ad esempio mi riferisco al discorso della fermentazione delle uve dei mosti sembra banale diciamo che quando si lavora molto bene in campagna tanto meglio si lavora in campagna tanto più la cantina va da sola però bisogna avere molto chiaro cioè il connubio tra ciò che è successo in campagna e come si svolgerà la fermentazione quindi i vini, i mosti diciamo vanno trattati diversamente a seconda del vino che si vuole fare ma soprattutto della stagione che si è vissuta in campagna quindi c'è una conoscenza e un lavoro anche nella cantina secondo me il lavorare puliti in campagna il valorizzare il terroir i terreni non il terroir ecco lì diciamo si consente di poter avere nel bicchiere diciamo la massima espressione di quella di quella parcella di vigna da dove ho voluto fare il Valpolicella piuttosto che il superiore dico due vigne a caso però poi ecco c'è la mano l'estro del vignaiolo che secondo me si concretizza in realtà nella cantina proprio andando a sorvegliare e condurre questa fermentazione che per carica di Dio andrà anche da sola però comunque bisogna avere ben chiaro insomma mostro quanta aria vuole quanta non ne vuole quell'anno lì ecco ci sono delle cose sicuramente da fare in cantina da conoscere e un'altra la seconda che mi permetto di dire sulla cantina è proprio anche ad esempio la scelta degli affinamenti dei contenitori che non è una scelta banale possono essere anche più semplici del mondo ma devono comunque tutte essere scelte motivate fortemente e studiate quindi diciamo in quel senso c'è un lavoro anche in cantina Manuela la palla torna a te allora quando avete cominciato a raccontarvi un po' l'inizio soprattutto Giorgio della vostra permanenza sul Monte Caro mi avete parlato di vostro padre che aveva comprato questo appezzamento di terra dove vigeva la policultura è tuttora così? no non è così perché nei suoi ultimi diciamo anni di direzione senza di noi insomma nell'azienda si era focalizzato sul vigneto più un ettaro di olivi che abbiamo tuttora inizialmente appunto c'era molta più biodiversità c'erano molti frutteti nel tempo poi lui li ha un po' lasciati da parte e si è focalizzato sulla viticoltura noi adesso stiamo cercando di riportare sul monte un po' di questa biodiversità diciamo persa dal 2020 seguiamo anche un po' di arnie personalmente e stiamo piantando pian piano nel tempo un po' di alberi da frutta misti non per farli rientrare in un concetto aziendale ma proprio come idea di riportare un po' di biodiversità sul monte un monte che è veramente molto bello perché questa cosa non l'abbiamo ancora mai citata due terzi della nostra azienda è un bosco siamo circondati dal bosco quindi è veramente un posto stupendo e anche una grossa fortuna eh sì molto Giorgio a sentire quello che dice Emanuela mi sembra di capire che anche voi due abbiate cercato di mettere in una sorta di continuità operativa con quello che aveva in mente vostro padre il vostro personale mattoncino come ci si sente anche se non si è viticoltori da generazioni ma comunque a portare avanti un discorso vitivinicolo familiare beh ci si sente diciamo assolutamente stimolati primo proprio per il fatto che noi non discendiamo da generazioni di viticoltori appunto ma ci si sente particolarmente appassionati per il fatto che si è consapevoli che tutto quello che oggi possiamo esprimere e fare diciamo è frutto diciamo di una storia dove tutti i componenti hanno contribuito per arrivare a dove siamo perché noi abbiamo parlato tanto del papà che era un po' il visionario della famiglia il genio diciamo noi quello che vedeva sempre oltre però quando è stato il momento di rimboccarsi le manichette per iniziare a costruirla questa azienda ragazzi il papà ci ha messo sotto tutti ad esempio quindi diciamo abbiamo tutte le domeniche passato delle grandi giornate a spostare i macigni per pulire i campi la mamma stessa che ha sempre dato servizio a tutti in campagna aiutandoci ma anche consentendoci poi di tornare a pranzo con un piatto caldo pronto ragazzi che non è poco quindi diciamo c'è stato proprio un contributo anche operativo da parte di tutti nel corso di tutti questi decenni passati e dentro al vino si trova proprio tutto questo il fatto che comunque ciascuno ha contribuito in questo operativamente con le proprie mani ma soprattutto è stato bellissimo anche un pochettino diciamo ripensare a tutto questo percorso che è stato costellato di soddisfazioni ma non sai neanche quanti litigi quante urla voglio dire e dentro ogni annata devo dire la verità magari per noi che abbiamo conosciuto anche da vicino in prima persona la storia nei calici poi assaggiati successivamente di quell'annata abbiamo ritrovato tutte queste gioie queste lacrime queste urla a seconda del vino dell'annata di che cosa era successo perché in effetti come tutte le persone forti diciamo si va sempre a finire in contrasto talvolta quindi ecco diciamo gioia e dolori allora io direi che è venuto il momento di andare a scoprire assaggiando l'equilibrio familiare che si percepisce dai vostri vini io comincio a versare eccoci qua allora vini versati io chiederei a Emanuela una cosa proprio generica tanto per presentare i vini semplicemente vino annata e vitigni del primo del secondo e del terzo ok vai allora oggi assaggiamo Carosso che è il nostro Valpolicella annata 2022 le uve sono Corvina Corvinone Rondinella che sono tre uve autoctone della Valpolicella grado alcolico 12 e mezzo poi assaggiamo Solaria che invece è un Valpolicella superiore annata 2020 e anche qui le uve sono sempre solo quelle autoctone Corvina Corvinone Rondinella e grado alcolico 14 e l'ultimo invece che assaggiamo è Fogo è il nostro Amarone l'annata 2019 le uve anche qui sono solo quelle autoctone quindi Corvina Corvinone Rondinella grado alcolico 15 gradi e mezzo chi mi vuole raccontare come viene prodotto il Valpolicella passiamo la parola a mio fratello a Giorgio ok Giorgio a te la parola sul Valpolicella a volentieri Valpolicella è il nostro lo chiamiamo noi internamente vino di tutti i giorni non perché sia un vinetto ma proprio perché è un vino a 360 gradi che si sposa bene con qualunque persona in ogni momento della giornata e rappresenta proprio la semplicità anche in fatto di metodo di produzione perché sostanzialmente si raccolgono le uve tendenzialmente a inizio settembre quando controllando il grado zuccherino si va sostanzialmente anche ovviamente dopo i dovuti anni di conoscenza a controllarne di conseguenza l'acidità di queste uve e quando riteniamo che sia tutto ok normalmente ai 12.5 alcoli equivalenti si va a raccogliere l'uve si porta in cantina si diraspa non si pigia e si lascia il mosto sostanzialmente in vasca d'acciaio a temperatura controllata nel senso che questa è la nostra tecnologia il nostro artificio alchemico per la produzione dei vini appunto usare freno acceleratore che è appunto la temperatura diciamo che andiamo eventualmente a impostare sulla vasca impostare non nel senso che abbiamo il bottone la macchina fattuto da sola nel senso che noi due o tre volte al giorno poi andiamo a verificare alziamo passiamo facciamo quindi è una fermentazione spontanea di queste tre uve autoctole in tank d'acciaio e non facciamo assolutamente nulla di particolare perché una volta messe le uve pigiate all'interno della vasca lasciamo che naturalmente la temperatura sia tale diciamo da poter far partire la fermentazione ma visto che normalmente a settembre comunque negli ultimi anni soprattutto il sole non manca tendenzialmente diciamo la fermentazione parte molto prontamente si tratta più che altro di rallentarla di farla andare diciamo un po' più dolcemente fatto quello si garantisce una quantità d'aria attraverso i rimontaggi al mosto che sono in quantità e durata variabile a seconda della stagione appunto dipende da cosa è successo nel campo tendenzialmente nel giro di una settimana sempre tutto più o meno con le spanne abbiamo detto che ogni anno è un po' figlio di se stesso andiamo a svinare una volta svinato appunto vino fiore e se l'annata lo consente anche il torchiato quindi andiamo a stoccare questo vino che subirà tendenzialmente entro la primavera successiva due trovasi punto chiaramente mentre tu parlavi io assaggiavo e io direi di esordire con un termine particolarmente professionale ammazza quanto è buono grazie no beh devo dire mio padre per circa tre anni ha avuto modo di lavorare a Verona quindi capitava che molto più di frequente mia madre ma anche io ogni tanto salivo a Verona e quando si andava a mangiare fuori no cioè per i veronesi sì l'Amarone è un grande vino però il veronese beveva il Valpolicella sì la parte che lo mettevano su tutto il Valpolicella anche perché devo dire la verità non voglio anticipare niente ma questo è un vino che ha una poliedricità tale da poterlo abbinare tanto con pesce quanto con carne sì magari non una una polenta di capriolo per dire delle dolomiti forse quello no però insomma con troppa roba lo puoi abbinare questo vino è proprio molto 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 invogliante diciamo scendendo cercando almeno di scendere un pochino di più nel tecnico direi che questo è un vino partiamo dalla dimensione tattile perché per me è fondamentale è un vino con pochi tannini eleganti ma pochi una buona acidità e che si tiene in equilibrio in maniera adeguata perché all'acidità fa da contraltare una morbidezza glicerica che gli conferisce anche una punta di tendenza dolce e quindi gli crea questo questo effetto che io definirei e che ho già definito per altri vini l'effetto limonata perché lo dico perché per me la limonata è una delle cose più buone del mondo proprio spremi il limone quindi l'acidità poi ci metti lo zucchero giri col cucchiaino e ti bevi una cosa che a me almeno fa impazzire gusti e colori per l'amor del cielo e questo effetto limonata che crea questo vino è molto pericoloso perché poi dopo entri nel circolo vezzioso un bicchiere dirà l'altro però diciamo questo è quello che riguarda la sfera tattile per quanto riguarda la sfera olfattiva o meglio sarebbe dire la sfera retroolfattiva quindi mentre c'è la in bocca quello che ti esce dal naso che è il modo con cui noi percepiamo ad esempio anche i piatti che mangiamo non è che noi diamo una forchettata e poi annusiamo prima di metterci in bocca una qualsiasi cosa innegabilmente fruttini rossi fragolini di bosco ribes rosso insomma ciliegiara ravenna però quello che mi piace di questo vino non che non mi piacciono gli altri però quello che quantomeno trovo singolare da percepire in questo vino è un mix di macchia mediterranea e anche una componente vegetale perfetto abbiamo toccato tutte le parole chiave benissimo no è davvero c'è questo c'è questo non si dice quindi non lo posso dire però vorrei tanto dire retro gusto però non si può dire quindi c'è questa persistenza conclusiva che fa virare questo vino verso la dimensione vegetale e lo rende tremendamente affascinante perché prima di tutto tu imboccai un vino estremamente equilibrato e anche accogliente nei suoi 12 gradi e mezzo riesce ad essere generoso nonostante la relazione acolica non sia particolarmente importante quindi il boccone proprio la bocca è soddisfatta nel momento in cui poi tu deglutisci ti rimane questa persistenza agrumata ma agrumato giallo quindi un lime un limone e questa freschezza vegetale che conferisce un fascino innegabile a questo vino nonostante credo sia un vino che costi piuttosto poco diciamo ricordo male se ti dico intorno ai 13 14 euro 14 euro siamo al momento che investe tutti i vini che degustiamo che si chiama momento abbinamento il momento abbinamento è quel momento della degustazione in cui io chiedo in questo caso Emanuela di suggerirmi uno o due se vuole abbinamenti per questo vino possibilmente tradizionali non dico proprio della Valpolicella poi se ne conosce uno proprio specifico della Valpolicella va benissimo però non dico un abbinamento della Valpolicella dico un abbinamento quantomeno Veneto dai in realtà noi abbiamo pensato come ricetta del territorio di portare una cosa molto semplice ma che si trova sempre ad ogni pasto che si fa in ricorrenze familiari solitamente all'antipasto si mangia la polenta quella molla quella al mestolo diciamo con due varianti una di carne e una di pesce prima hai proprio anticipato questa cosa questo vino qui molto poliedrico si può abbinare addirittura anche al pesce noi abbiamo il lago di Garda che ovviamente porta con sé dei pesci di lago che sono dei pesci sicuramente non troppo delicati un pochino più grassi rispetto a quelli che si possono trovare al mare ad esempio la tinca il luccio per noi l'antipasto di luce polenta è la cosa più ovvia che ci sia e valpollicella è perfetto per questo piatto se pensiamo alla carne invece anche i salumi soprattutto la soppressa veronese che è questo insaccato questo salame veronese fatto quindi un pochino più grasso rispetto ad altre tipologie perfetto per il bel policello perfetto ma guarda io ti posso dire quello che ho pensato io ho pensato a un pesce di lago in crosta di sale e nella fattispecie avevo pensato al persico reale e e poi sempre rimanendo beh no non è rimanendo sul pesce perché sia pesce che carne una paella alla valenziana wow wow sì allora Giorgio sei pronto perché adesso tocca di nuovo a te ci spieghi assolutamente sì anche perché in introduzione Emanuela ha detto quali sono le nostre tre caratteristiche principali concordo assolutamente una di queste è la semplicità e quindi mi viene facile spiegare un po' tutto il percorso proprio in virtù di questa di questa caratteristica quindi le uve sono del valpolicello superiore che abbiamo denominato solaria diciamo sono le medesime del che usiamo per il valpolicello quindi le nostre tre autoctone Corvina Corvinone Rondinella diamo un particolare valore a Rondinella nel senso che è l'unica uva che andiamo veramente a pesare quando entra nel mosto e la differenza grossa chiaramente oltre all'annata che proponiamo è il fatto che comunque per questo vino la vendemia non è più diciamo andando a controllare una determinata caratteristica che come nel caso del policello era il grado zuccherino sviluppato appunto dall'uva ma semplicemente qui si va a masticare si va a valutare quando l'uva è completamente matura quindi il nostro valpolicello superiore è fatto assolutamente a due fresche vendemmiate generalmente tra la fine di settembre e la prima metà di ottobre sembra una banalità però diciamo questo questo aspetto diciamo incide tantissimo sul nostro lavoro in campagna appunto il vino si fa a partire soprattutto nella gran parte in campagna e il nostro superiore diciamo è per noi diciamo una una prova forte di tutto ciò cosa succede una volta raccolte si portano in cantina immediatamente e si vanno appunto a diraspare e non a pigiare si mette tutto in vasca d'acciaio anche qui per appunto prepararsi alla fermentazione che poi spontaneamente partirà quando decide generalmente se l'annata è particolarmente bella cerchiamo di per noi bella significa particolarmente calda cerchiamo anche di estrarre diciamo il più possibile magari facendo un po' di macerazione a freddo diciamo dei mosti sulle bucce però ecco non è la macerazione diciamo una parola consona al nostro modo di lavorare il nostro stile le nostre volontà qui le fermentazioni durano proprio perché comunque si svilupperanno tendenzialmente attorno ai 14 alcol durano attorno ai 15 giorni e fatto questo anche qui cosa succede si fanno i dravasi del caso tutte malolatiche spontanee che partono diciamo quando la cantina dice ok siamo alla temperatura corretta perché potete possiate fare voi vini anche tutto ciò e ecco qui abbiamo che le uve rimangono nella vasca d'acciaio per un tempo un po' più lungo diciamo qui si parla di una permanenza di circa un anno e poi bottiglia una cosa che non ho detto prima per Valpolicella che vale per questo vino solaria così come vale neanche per Carosso noi ci teniamo tantissimo a dire che gli affinamenti non sono esattamente fatti in vasca d'acciaio ma sono fatti in bottiglia perché una volta che imbottigliamo il vino non esce dalla cantina se non prima di 10-12 mesi a seconda del tipo di vino parlando di questi due specifici ed è lì che secondo me un po' il condominio le varie uve vanno a le varie uve ciò che c'era nelle varie uve vanno un attimino ad amalgamarsi ad accordarsi ad addolcirsi e sostanzialmente quindi ad affinarsi fondamentalmente e altro non ho da dire perché anche qui che vuoi che dire che fare e fa tutto lui possiamo solo dire che poi quello che ne risulta alla fine nel bicchiere è anche in questo caso un vino di altissimo spessore allora se nel vino precedente avevo individuato da un punto di vista tattile una morbidezza gricerica quel tanto che bastava per tenere in equilibrio la freschezza citrica in questo vino diciamo che c'è un po' più di dimensione balsamica per quello che riguarda la freschezza un po' meno freschezza citrica agrumata e la dimensione ma per forza di cose ovviamente di morbidezza quindi di glicerina e di tendenza dolce aumenta ovviamente io veramente cioè appena ho messo il naso qua dentro per ripetere un descrittore aromatico che come dire di cui ho parlato nella puntata scorsa mi è sembrato di mettere il naso dentro uno di quei vasi di terracotta dipinti in bianco e blu dove c'erano le amarene della fabbri c'è proprio un flashback di quando ero bambino proprio giù di lì bambino bambino ragazzino insomma sicuramente teenager ecco per me proprio è quasi ho avuto un effetto quasi come la Madeleine di Proust diciamo fantastica è un gran bel vino è un vino importante impegnativo non impegnativo perché sia difficile ma impegnativo perché per me quando si parla di vini si deve sempre ragionare in termini di abbinamento cioè io il vino concepito in se stesso scusate il gioco di parole non lo concepisco il vino è una componente che si va a amalgamare con quello che si mangia e da questa amalgama nasce un connubio che può essere più o meno centrato per questo dico che questo è un vino che ha una quota tra virgolette di difficoltà non indifferente perché certo ovviamente me la posso far facile con questo vino mettendogli appunto come hai detto tu perché l'hai citata prima della soppressa veronese del gorgonzola e è chiaro che esaltano questo vino però io come dire cercherei qualcosa siccome insomma mangiare soppressa veronese e gorgonzola una volta a settimana per bere questo vino comincia a avere comincia a creare qualche problema alle coronarie diciamo quindi forse è il caso di prendere altre strade comunque per quanto riguarda il naso grandissima frutta rossa in questo vino incredibile bellissimo una finestra che si affaccia proprio sulla frutta rossa qui la componente vegetale non c'è c'è la componente floreale il petalo di rosa o di violetta che non è comunque completamente appassito ma che sta cominciando ad appassire quindi è più intenso rispetto al petalo appassito ma meno meno scuro ecco passatemi questo termine meno austero cominciano ad affacciarsi dei primi punti speziati ma ancora preferisco non tirarli in ballo non per me o per voi due ma perché se comincio a parlare qua di idee speziate che cominciano ad emergere non vorrei poi mettere in difficoltà chi ci segue perché magari si aspetta poi una volta comprato il vino di trovare quelle spezie quando invece qui sono idee non sono come dire queste idee non vengono portate a compimento in maniera perfetta e completa quindi meglio lasciarle da parte meglio far capire che questo è un vino spostato su un piano di frutta rossa matura e tendente anche all'oscuro e dimensione floreale in leggero appassimento detto questo lo sai Emanuela ti tocca il momento abbinamento sì allora guarda per questo vino abbiamo pensato a due ricette un primo e un secondo così facciamo il pasto completo che sono veramente molto tipiche della nostra zona il primo sono gli gnocchi di malga quindi sono degli gnocchi fatti con la farina però non con le patate e la fioretta che è diciamo questo primo questa prima parte della produzione del formaggio della ricotta ok questi gnocchi vengono sempre poi serviti con ricotta affumicata e un bel po' di burro super tipici delle nostre montagne per quanto riguarda invece il secondo abbiamo pensato all'esso e la pera il piatto più tipico e rappresentativo di Verona a Natale le domeniche in famiglia si manda sempre l'esso con la pera quindi carne vari tagli di mucca gallina carne lessata e la pera che è diciamo una crema di pane un pane grattugiato un pane vecchio grattugiato fatto sobollire per ore e ore e ore con il brodo della carne e il midollo con molto pepe poi ci hai chiesto cose tipiche e ti importiamo cose tipiche venuto a fame porca miseria allora e qui il mio abbinamento potrebbe essere devi prendere prima di tutto devi prendere in considerazione per capire bene l'abbinamento o almeno perché ho scelto questa preparazione bisogna prendere in considerazione il fatto che qui il tannino comincia a mordere un po' di più ma è sempre molto delicato e quindi tu hai un tannino delicato una frutta rossa intensa almeno quelli che sono le cose che emergono più immediatamente una morbidezza glicerica trovare un piatto di carne ad esempio sì il lesso potrebbe starci però ad esempio visto che hai parlato di lesso io ti dico che il lesso per questo vino farei lesso con la senape e se no anche in questo caso mi rifuggerei in qualche cosa a tendenza acida ok quindi ti dico partendo da una mozzarella di bufala che ci vedo proprio questo vino che è quasi la fascia come se fosse una sorta di una mozzarella di bufala un il corconzona non lo dico perché sarebbe troppo forse ci metterei sai mi hai fatto migliore in mente con questa preparazione la puera forse ci berrei questo vino lo berrei anche in compagnia di un piatto di canederli sì niente male la fame ragazzi eh sì la fame arriva si fa sentire Giorgio dai che siamo all'ultimo vino l'amarone sì ma qua una parola in più ce la spendiamo vero Manu perché qua è stato un bel azzardo questo eh questo è stato un azzardo bello e buono qui abbiamo veramente messo dentro proprio tutto noi stessi nel senso che quando si dice facciamo le cose ehm come si può dire non ehm non per gli altri ma per esprimere tutto noi stessi ecco questo qui è proprio la storia del nostro amarone che abbiamo denominato fuogo fuogo in dialetto veronese fuoco e al di là del fatto che quando parlo io per dire che una cosa è bella spesso dico da fuoco ma non è quello il motivo ecco il fuoco è perché comunque la vigna da dove normalmente andiamo a raccogliere le uve eh diciamo la più insolata in assoluto e tendenzialmente quando comando di andare a lavorare quella vigna si girano tutti dall'altra parte fanno tutti finta di niente proprio perché c'è il fuoco che picchia sulla testa al di là di quello qui nasce questo vino nasce da un'idea anche qui semplicissima e fondamentalmente con tutti gli assaggi che abbiamo fatto di vini insomma per passione per studio prima di iniziare a fare noi stessi l'ammarone ci siamo resi conto io in primis che non riuscivo più a berli nel senso che buonissimi fantastici però mezzo calice e poi basta e mi sono chiesto cos'è che mi dava personalmente diciamo questa fatica nel bere l'ammarone mi sono reso conto che c'era per quello che riguarda il mio personale palato gusto diciamo troppa quasi tra virgolette dolcezza o meglio diciamo mi serviva un qualcosa di un po' più acido di più fresco fondamentalmente quello che abbiamo fatto è stato andare a raccogliere le medesime tre uve dei due Valpolicella quindi Corvina Corvinone Rondinella ci siamo sempre disinteressati per tutti i vini all'aspetto colore quant'altro quindi questo è il colore delle nostre uve questo è il colore dei nostri vini fondamentalmente abbiamo scelto di affinare questo vino in un contenitore che può anche sembrare una follia perché fondamentalmente troviamo un amarone che non passa legno non passa assolutamente legno viene venificato in acciaio rimane in acciaio e poi va a finire direttamente in bottiglia dove fa sostanzialmente l'affinamento vero e proprio e quindi un amarone acciaio possiamo definirlo anche no nel senso che poi come continuo a insistere a dire è la bottiglia quella che veramente la fa da padrone in merito all'affinamento ecco qui abbiamo tra l'altro appunto un vino dove quello che si vuole valorizzare non è tanto la scelta del contenitore quanto quello che anche da disciplinare sembra essere proprio la reale caratteristica dell'amarone secondo noi cioè l'appassimento delle uve e quindi abbiamo deciso di provare questa strada e quello che ne è venuto fuori è sostanzialmente un vino che viene fermentato normalmente cos'è dicembre dicembre gennaio si va verso quei mesi lì per avere appunto la fermentazione e procede tutto come negli altri vini quindi non è che cambiano le cose qui abbiamo una difficoltà tecnica in cantina diciamo elevata perché voleva fare fermentazioni spontanee con delle uve diciamo che arrivano da tre mesi di appassimento quindi con una concentrazione zuccherina importante non è banale perché comunque quello che si vuole è comunque avere un vino secco alla fine quindi con per carità un piccolo residuo zuccherino ammesso però non deve diventare lo zucchero diciamo l'autore il soggetto di questo vino e in questo caso quello che secondo noi è riuscito benissimo è l'ottenimento di un vino che a livello di strutture di alcol è proprio un amarone a tutti gli effetti così come lo conosciamo però quando si va a bere o abbinare questo vino attenzione che probabilmente non si parla più tanto di meditazione ma qua si parla proprio di passione gastronomia qua il pericolo proprio è che la bottiglia finisce e poi vai anche a chiedere un'altra attenzione con tutte le conseguenze del caso voglio dire certo beh guarda io ti posso dire una cosa intanto a me i due abbinamenti sono già venuti in mente e ce li ho chiarissimi diciamo due parole su questo amarone allora la frutta che abbiamo trovato nel secondo vino qui nell'amarone è leggermente meno esuberante questo perché insieme alla dimensione floreale che è identica o giù di lì a quella del policello superiore qui emerge una dimensione speziata importante quindi ramo di l'iglizia cioccolata fondente torrefazione incenso palosanto che per chi non lo conoscesse è un incenso molto profumato tipico del Brasile e poi facendo un passo indietro e tornando al palato qui c'è un signor tannino un tannino di quelli che fai tanto di cappello a me piace molto anche questo vino e adesso che ho assaggiato tutti e tre i vini posso riconfermare l'idea che già avevo di voi ovvero che in tutti e tre i vini lavorate molto sulla dimensione della freschezza non so se sia perché il vostro terreno naturalmente vi restituisce dei frutti che hanno una quota di freschezza maggiore se siano scelte che compite in vendemmia ovvero scelte che compite durante la potatura verde come che sia sia sono vini che comunque hanno una grande e bella freschezza e di conseguenza quando c'è freschezza voi mi insegnate c'è anche bevibilità ovviamente e infatti l'amarone è già finito mentre parlavo fantastico e Emanuela dicci un po' con che si abbina l'amarone in Veneto allora devo fare una piccola promessa perché spesso capita di andare tipo in centro o in zone molto turistiche comunque e vedere questi turisti stranieri che pasteggiano con una bottiglia di amarone come se fosse acqua o un valpolicella in realtà noi veronesi non è che beviamo l'amarone tutti i giorni non è un vino pensato per essere il vino da tavola di tutti i giorni quindi gli abbinamenti sono sempre un pochino più particolari proprio perché è un vino un po' d'occasione in realtà se devo pensare al nostro utilizzo a me viene in mente sempre il dopo cena con un deserto magari di biscotteria secca tipo la nostra tipica sbrisolona che sono queste torte secche con tutta una pasta di mandorla all'interno se invece vogliamo tornare ad abbinamenti un pochino più classici nel momento proprio del pasto mi vengono in mente delle carni tipo del brasato ecco ecco però guarda veramente l'amarone sì è un vino che si può consumare anche durante il pasto sicuramente questo tipo di amarone è molto più gastronomico rispetto magari ad altre interpretazioni però rimane sempre un po' un vino che ricorda il termine dei pasti certo certo anche perché tu mi insegni che in realtà l'amarone prima di chiamarsi amarone si chiamava recioto amarone e questo per dire che era un recioto quindi un vino secco un vino dolce chiedo scusa che per una serie di ragioni poi ci sono tante leggende intorno al perché si è diventato amarone comunque per una serie di ragioni una vasca aveva fermentato quando in realtà si sarebbe dovuto interrompere prima la fermentazione e quindi rimanere vino dolce invece aveva cominciato a mangiare anche gli altri zuccheri i lieviti avevano cominciato a mangiare gli altri zuccheri e di conseguenza questo recioto era diventato amarone cioè amaro amarone per quello quindi capisco perfettamente il tuo suggerimento io sto sul preferisco rimanere sul discorso piatti non dolci diciamo anche perché se uso l'amarone per la sbrisolona poi il recioto di Valpolicella perché lo uso giusto sentiamo che cosa ci proponi no due cose molto molto normali molto comprensibili diciamo uno l'arrosto misto con patate e l'altro uno stinco di vitello al forno mai provato? io personalmente sono vegetariana ma mio fratello magari provai provai sì sì no è bene giustissimo verissimo sono tutti i piatti sufficientemente strutturati per poter un attimino andare a reggere la struttura di questo vino che appunto per quanto noi definiamo gastronomico rimane una bella picchetta di quelle potenti eh ragazzi mi sembra anche comprensibile un amarone non è che assolutamente sì scusami Emanuela ci siamo dimenticati di dire il prezzo del Valpolicella Superiore e dell'amarone Valpolicella Superiore 20 22 21 e invece Fogo l'amarone 45 ok prezzi assolutamente comprensibili diciamo senza problemi siamo quasi alla fine della nostra chiacchierata mi sono rimaste alcune curiosità una già so qual è la risposta perché me l'ha anticipata Giorgio però te lo chiedo Emanuela cioè praticate forme di ospitalità in cantina eh sì diciamo la nostra è una cantina appunto piccolina quindi non è che è sempre aperta per degustazioni però su prenotazione organizziamo delle visite guidate eh generalmente puntiamo su passeggiate sul monte degustazioni all'aperto proprio perché quando poi facciamo assaggiare i vini raccontiamo eh come lavoriamo eh puntando tutto sul territorio e sulle uve era importante per noi portare le persone dove queste vengono coltivate e quindi in inverno generalmente le degustazioni si fermano a meno che non ci sia qualche appassionato che ci chiede di venire a visitare la cantina insomma chiaro allora a questo punto facciamo un po' di promozione territoriale diciamo che io vengo a visitare la tua cantina assaggio qualcuno dei tuoi vini e lo trovo piacevole a questo punto quando io esco dalla tua cantina che sia a pranzo che sia a cena e voglio andare in una trattoria ristorante ristorante stellato insomma dove posso andare a mangiare fammi magari due tre esempi di posti con anche diverse come dire insomma aspettative economiche dove posso andare a mangiare con la sicurezza di ritrovare i vostri vini in carta ok allora l'opzione più di territorio quella che più vicina a noi nella nostra vallata con un cibo molto una proposta molto semplice però tutta veramente a chilometro zero è la trattoria Moruri il proprietario proprio si dedica personalmente a recuperare le materie prime da produttori locali quindi è veramente chilometro zero ci spostiamo un po' dalla vallata poi e andiamo in centro in centro città dove troviamo una proposta culinaria un pochino più raffinata che è il ristorante antica torretta e poi ti do un'altra opzione sempre di un altro ristorante che è fuori città si chiama ristorante Cavour siamo da poco nella loro lista siamo molto contenti di essere presenti nel loro ristorante perché è una cucina tipica quindi proprio quella di casa che la nonna cucina la domenica però con una cura del dettaglio e una ricercatezza del prodotto che sono veramente fantastici quindi siamo veramente contenti di essere presenti anche qui se invece si parla di non di pasto ma magari di un locale dove si può fare un aperitivo sicuramente ci viene in mente la vazzia che è un wine bar a San Zeno quindi proprio in centro Verona che non è presente da tantissimi anni abbastanza recente come locale con una bellissima selezione di vini ho capito grazie mille e niente ultima domanda immagina che appunto il cliente che è venuto a trovarti ovvero io nella fattispecie va al ristorante e si trova in carta i tuoi vini oppure va nella sua enoteca della sua città e trova a scaffale i vostri vini adesso uno per uno mi dite mi dite quali leve motivazionali usereste per convincere il cliente sia esso seduto al ristorante o sia esso in piedi davanti allo scaffale dell'enoteca a scegliere una bottiglia a firma il Monte Caro Giorgio vai wow tosta è questa vista dalla parte del produttore ma io cercherei innanzitutto sul Valpolicella di puntare tutto sul fatto che il vino pur essendo un vino a media struttura ha un tannino veramente elegante e quindi è una proposta diciamo che ben si abbina come già così spiegavo all'inizio a tutte le persone a tutti i momenti della giornata è un po' il nostro everyday wine quindi un vino apparentemente semplice nel senso di facile beva e dico apparentemente semplice perché poi comunque è soddisfacente al palato e al naso quindi viva la freschezza viva la genuinità che sono due cose che diamo sempre per scontato ma che insomma vale la pena di ricordare e sul superiore invece punto tanto sul fatto che fondamentalmente il vino è è assolutamente wow fatto due fresche quindi territoriale al massimo e dentro c'è questo lo sappiamo noi perché ci lavoriamo un po' tutta la nostra passione diciamo è è l'uva più difficile da portare a vendemmia per noi questa perché appunto sono 14 alcol fatti in pianta e quindi direi signori se avete il piatto corretto per poter reggere questo signor vino ecco questo potrebbe essere veramente un vino per tutti i palati sempre tutti i palati non nel senso che sia facile ma nel senso che ha delle doti incredibili di struttura ma anche di freschezza ragazzi c'è questa freschezza che rende i vini interessanti appunto con una quantità industriale di situazioni e abbinamenti e sul fogo invece l'unica cosa che direi è una sola signori volete assaggiare un altro amarrone un amarrone non so come dire no meglio o peggio proprio per niente differente qui c'è la proposta differente poi provare per credere insomma voglio dire perché bisogna anche metterci un po' del proprio certo Emanuele tu invece? ma allora se dovessi essere il sommelier del ristorante proporrei questi vini sottolineando la loro freschezza la loro territorialità darei importanza al fatto che sono fatti soltanto da uve autoctone senza altre uve diciamo aggiunte probabilmente utilizzerei il termine vini più contemporanei quella nostra è una lettura di una Valpellicella sicuramente più contemporanea e più sì più fresca probabilmente visto che le persone quando bevono il vino un po' vogliono anche bere la storia farei un po' leva anche sul posto racconterei del monte della bellissima vista che c'è da quel posto da quel monte lì e basta racconterei che il vino è fatto da due fratelli tutti matti ecco quest'ultima motivazione è quella che mi avrebbe spinto a ordinare il vino scherzo ovviamente e fare il serio il faceto vi dico anzi molto seriamente vi dico che adesso che stiamo per salutarci ho trovato veramente piacevole poter incontrare entrambi e soprattutto ho trovato piacevole scoprire in voi perché sai quando si assaggia un banchetto di una degustazione non è che si può fare chissà quale chiacchiera perché poi c'è la gente dietro che vuole assaggiare anche lei quindi devo dire che mi fa piacere aver trovato in voi due persone estremamente genuine direi con le idee piuttosto chiare ecco se potessi fare un una similitudine direi che mi siete sembrati entrambi pugno di ferro in guanto di velluto ok e e quindi io vi ringrazio per essere venuti qua averci rivelato la vostra essenza perché come dico sempre un vino parte dall'essenza di chi lo produce e quando parlo di essenza parlo di qualcosa che non è neanche spiegabile razionalmente è un qualcosa che supera la razionalità stessa quindi grazie per averci fatto dono di questo regalo che mi auguro anche chi sta guardando saprà apprezzare e detto questo vi saluto alla prossima bella occasione Emanuela assolutamente intanto ti ringraziamo anche noi alla prossima bella occasione Giorgio Francesco sicuramente sì anche perché essere qui oggi con te è stata proprio una lusinga e per quanto riguarda voi non mi rimane altro che augurarvi buon fine settimana e darvi appuntamento alla settimana prossima sempre qui sempre su storie di vino e viticoltori arrivederci grazie a tutti